Grazie a tutti per l'impegno e per tutto quello che fate, grazie, grazie a tutti per la gente, un grande applauso anche a loro, alle nostre porte armate che ci tutelano e a tutte le associazioni presenti. Oggi siamo qui soltanto per dire grazie e rendere omaggio ai nostri caduti della resistenza, ai nostri martiri della resistenza, lo facciamo tutti noi, tutti insieme, come appena detto Gigi Pucco, e farei un grande applauso a loro, fatemelo perché se lo meritano, fatevi un grande applauso, vive il nostro giorno, e i nostri amici che ci lasciano per la nostra Costituzione, una delle carte più importanti del mondo, dove sono racchiusi i valori di libertà, democrazia, uguaglianza sociale, e siamo qui oggi tutti insieme, non per i nostri diritti ma soprattutto per i nostri doveri, come ciò che ne ha ricordato Gigi Pucco. Quindi grazie, grazie di cuore a tutti voi, a tutte le associazioni, a tutta la nostra comunità, perché dobbiamo sempre stare lì, soprattutto nei momenti di difficoltà. L'Italia è sempre il momento del tempo, per tutto lavorare, almeno, per lavorare la nostra bandiera e la nostra patria. Quindi davvero, grazie di cuore, siamo qui oggi per i nostri giovani, per il futuro dei nostri giovani, per loro lo facciamo, per ricordare tutto quello che è stato, affinché tutto questo non venga mai più rivisto, perché come sapete ci sono tante guerre nel mondo, soprattutto all'interno della nostra Europa, e come sapete l'Italia vi pude alla guerra, nell'articolo 11 della Costituzione. Quindi viva tutti noi, viva i nostri giovani, viva la nostra comunità, viva Sardico, viva l'Italia e viva i nostri partigiani. Grazie mille a tutti.